Che confusione, è un peccato, potrebbe essere decisiva per lo scudetto, è meglio giocarla lunedì piuttosto a porte chiuse, io non sono tanto contento del rinvio a maggio. Va bene la prevenzione, accettiamo tutte le decisioni, però è un peccato. Juve e Milan, se non sbaglio, hanno detto che non fanno entrare la gente che arrivano dalle zone. Sentendo le parole di Marotta sono un po' indignato, perché ho sentito che ha detto le cose del campionato falsate, non mi piace così. Per me potevano lasciare le porte chiuse, secondo me. Mi sembra che Marotta stia facendo un po' di polemiche, la Juve ha detto il lunedì, ho sentito. E loro non hanno voluto. Juventus-Milan di Coppa Italia al momento confermata a porte aperte, ma solo per i piemontesi. Potevano farla anche con noi, potevano farla con la Juve-Inter, penso, poi non so. Porte chiuse andava bene all'Inter, penso, ma porte chiuse, vero? È stranissimo, dovrebbero farle a porte aperte le partite, non è esagerata come cosa, secondo me. Quindi a porte aperte normalmente tutte le partite? Secondo me sì, poi nei limiti ovviamente magari evitare persone che vengono da determinati posti, però secondo me, io la vivo serenamente. Poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole. Juventus-Inter rinviate, a Juventus-Milan si gioca per ora a porte aperte, solo per i residenti in Piemonte. Secondo me o venivano rinviate tutte le partite oppure bisogna semplicemente giocarle a porte aperte, anche perché da domenica a mercoledì diciamo che il virus non potrebbe minimamente cambiare. Secondo me dovrebbero magari, che ne so, in tre settimane abolire tutte le partite, tutte le manifestazioni calcistiche e rinviarle a quando la situazione magari si placa, cioè si definisce meglio, perché adesso è ancora un punto interrogativo. Sono misure che devono prendere, deve prendere il governo e la regione, io non posso dire se è giusto o sbagliato. Il calcio colpito dal coronavirus, con partite rinviate e partite no, c'è un po' di confusione anche tra Serie A e Coppa Italia, come la vedi? Ma magari viene un po' falsato il campionato, diciamo, si vedrà l'ultima inter-Juven, insomma. D'accordo con Marotta quindi? Ma Marotta, non mi fa né caldo né freddo essendo romano, però diciamo di sì, insomma. Quale poteva essere la soluzione? Rinviarle tutte, direi di sì. È la decisione che hanno preso che Juventus-Milan sarà giocata, ma senza i tifosi lombardi. Come idea mi piace, perché comunque penso che bisogna avere un po' di protezione per questa città, anche per la tifoseria della Juventus, quindi penso che sia una buona decisione comunque. Juve e Inter avrei preferito che avrebbe giocato, perché è una bellissima partita, anche perché la Lazio ieri ha vinto, ha superato la Juventus, quindi è prima in classifica, però comunque penso che si poteva anche giocare comunque. Anche a porte chiuse? Anche a porte chiuse, sì.